ciao amici musicisti e benvenuti a questo nuovo episodio di a lezione con maru il format dove parliamo di teoria ed armonia musicale spero abbiate passato tutti una buona settimana oggi parleremo per la prima volta di armonia vediamo quindi di definire questo termine l'armonia è quella parte della musica che studia la formazione e la concatenazione degli accordi inoltre l'analisi armonica e lo studio di come le voci all'interno degli accordi sono in relazione tra loro e possono creare risoluzione o tensione per questa prima lezione andremo a parlare delle cadenze che cos'è una cadenza la cadenza è una successione di due accordi andiamo ora a guardare le due cadenze finale la cadenza perfetta sia quando l'accordo di quinta dominante va a risolvere sull'accordo fondamentale se noi ad esempio pensassimo una tonalità di do avremo quindi di sol settima e do guardando le voci che compongono questi due accordi vedremo che sol è formato da sol si re e fa mentre do da do mi sol si possiamo notare anche che il terzo grado dell'accordo di quinta dominante quindi di sol settima salirà di mezzo tono per risolvere sulla tonica di do si do mentre il settimo grado sempre di sol scenderà di mezzo tono per diventare il terzo grado di do fa mi passiamo ora la cadenza plagale questa cadenza è costruita grazie a un accordo costruito sul quarto grado che va a risolvere sull'accordo fondamentale questa cadenza però non dà il senso di risoluzione che possiamo avvertire invece con una cadenza perfetta in quanto le voci contenuti nei due accordi costruite sul quarto grado e sull'accordo fondamentale non interagiscono tra loro in maniera perfetta come avviene ad esempio con un quinto grado di un accordo fondamentale passiamo ora invece alle cadenze sospese abbiamo ad esempio una cadenza evitata essa avviene quando l'accordo di dominante costruito sul quinto grado non va a risolvere sull'accordo fondamentale della tonalità bensì su un qualsiasi altro grado ad esempio quindi potremmo avere anziché quinto primo quinto sesto abbiamo anche la cadenza dominante ovvero quando un accordo si va a posare sull'accordo di dominante questa cadenza viene definita sospesa in quanto non va a risolvere ma si va ad appoggiare su un accordo di dominante abbiamo ancora la cadenza imperfetta la cadenza imperfetta è sempre costruita dal quinto grado di dominante che va a risolvere sull'accordo fondamentale ma in questo caso a differenza della cadenza perfetta uno dei due accordi se non entrambi sono sotto forma di rivolto anziché stato fondamentale ti ricordo che per stato fondamentale intendiamo un accordo costruito con l'ordine primo terzo quinto settimo grado mentre i rivolti potranno essere terzo quinto settimo primo quinto settimo primo terzo settimo primo terzo quinto come al solito la nostra prima lezione di armonia finisce qui nel caso avessi qualche dubbio ti invito a lasciare pure un commento qui sotto io ti risponderò nel minor tempo possibile detto questo spero ti sia divertito e che questa lezione ti abbia aiutato come ormai saprai la perfezione ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova lezione ciao e grazie